Quando l'ho incontrato la prima volta era un momento molto particolare della mia vita. Io poi non sono stato mai molto attaccato alla religione, anzi. Però l'anno scorso mi sono avvicinato alla chiesa perché hanno diagnosticato a mio padre una brutta malattia. È stato per parecchi mesi in ospedale, ha dovuto fare delle chemioterapie molto pesanti. Per me è stato abbastanza difficile andare avanti, perché io e mio padre lavoriamo insieme. Senza di lui sarebbe stato proprio impossibile andare avanti. E per questo quando lui è venuto a me per la prima volta mi ha cambiato la vita. Sia lodato il Signore. Sempre sia lodato. Sono venuto a portarti il Regno dei Cieli. Sto a posto, grazie. Vuoi che come in Adamo tutti muoiono, così anche nel Cristo tutti saranno resi viventi. Perciò ti dico, lascia tutto, la barca, la famiglia e seguimi. Diventa per me pescatore di animi. Te l'ho detto, non mi serve niente. Sicuro? Vabbè, moltiplica il pesce. Vabbè, stagia. Vabbè, stagia. Vabbè, stagia. Vabbè, stagia. Vabbè, stagia. Grazie a tutti.